ma ci sei? ma io volevo salutare ma sai da quant'è che li volevo vedere? com'è che si chiamano la giostra di Cesena? quelli lì che fanno delle botte ma sta buono che io ho l'arbeg perché sennò chissà che botte avrei preso anche io ciao e fatti bravi eh non fatevi male eh però giocate ciao dalla tabaccaia ciao